Verranno celebrati mercoledì pomeriggio alle 15.30 nell'uomo di Udine i funerali di Giulio Giustiniani, giornalista, scrittore ed ex direttore del Grazzettino dal 1996 al 2001. A Venezia, città dove ha risieduto durante la sua direzione alla guida del prestigioso quotidiano del nord-est, tante dimostrazioni di affetto e stima stanno arrivando in queste ore. Così lo ha ricordato domenica il nostro direttore Luigi Bacciagli, che ne raccorse il teltimone nel 2001 subentrandogli alla guida del Grazzettino. Io gli ero subentrato nel 2001 alla direzione del Grazzettino quando scelse di passare alla direzione del Tg della Sette. Ho avuto modo di apprezzarne le grandi capacità, la serietà, lo scrupolo, anche l'educazione con cui trattava i suoi colleghi e tutti coloro che aveva modo di incontrare e di conoscere. Era una persona educata, era una persona gentile, cosa rara nel nostro ambiente. In fondo era un gran signore. Giustiniani, giornalista gentile, formatosi al resto del Carlino e alla Nazione, era stato vice direttore del Corriere della Sera, direttore del confronto, come lo descrive l'amico e collega Sergio Frigo. Quando Giulio Giustiniani arrivò al Grazzettino, io ero segretario di redazione. Al giornale eravamo tutti legatissimi a Giorgio Lago, che era il collega che era riuscito a scalare tutti i gradini della carriera fino a diventare il direttore più importante dopo il fondatore Talamini. Giustiniani doveva dimostrare a una redazione che non voleva crederci che il Grazzettino poteva esserci anche senza Giorgio Lago. E forte del sostegno dell'editore, riuscì, a mio parere, a far fronte al difficile compito. Non era un direttore decisionista, tutt'altro aveva piuttosto un carattere affabile e gentile, ma in occasione dei grandi eventi, come ad esempio l'incendio alla Fenice, emergeva la sua grande professionalità maturata alla guida dei grandi giornali in cui aveva lavorato prima.